Oh, mo' assaggiamo tutti i primi quattro salti in panella 3,99, cominciamo con gli gnocchetti alla sorrentina La consistenza con gnocco, antipadichella Ma in generale, sei meno, andiamo avanti 5,90, linguina allo scoglio Enrico la definita un po' slavata, ce sta Soprattutto per 5,90 5,99, tagliatelle ai funghi Sa più di fungo di tante altre paste sorgevate Però manca la botta Sei mezzo, andiamo avanti 5,99, pappardelle al ragù Ci sente l'uovo, taglio Il ragù è scarico, sai più Lasagna da 6,29 L'ho fatta al forno, me l'ho messa in panella mo' Perché mi sembrava giusto in confronto alle altre La crosticina è invitante, ma il resto Sembra uno slime del Dragon Quest Sta lasagna in particolare, ricorda Un matrimonio senza amore Ma con tanta amicizia 5,5 Casa Recce alla Bosca Iola 4,99 Uno dei sapori più fragili 5 meno Casa Penne Tricolore 3,99 Un 6 slavato Ravioli, ricotta e spinaci 3,99 Monopursione Pappoghetti forse Questo è il piatto migliore di oggi Un 7 Approvato Grazie a tutti Grazie.